Ciao a tutti, sono Alex da CORE e ora voglio presentare i nuovi touchscreens lanciati in ISEE 2024 e è il nuovo formfactor con un nuovo metallo e un nuovo display di qualità della nostra range Eclipse touchscreens. È un software molto designato per tutto la tua casa e la funzionalità, per esempio tutto per il luogo, per il termostato, per i luoghi e la funzione intercambi dentro del sistema, l'integrazione con l'alarm system potete creare alcune scene automaticamente per l'utilizzo, o potete creare alcune automazioni basate sui tempi o eventi. È disponibile in 10 diverse finissime, in metallo, stile in stile e in brasse e un altro punto è che tutto è dentro della cappella europea quindi è solo la cappella, è una cappella di 65 mm di dimensione quindi è molto fina per l'installazione o per retrofittare la tua planta Se volete più informazioni, potete visitare il nostro sito www.core.com.tr Grazie 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 Grazie